Stavo leggendo questo libro di Vito Teti, un famoso antropologo, che si chiama La Restanza. E' uno dei capitoli di questo libro dedicato al pane, meraviglioso, un capitolo chiamato Le molliche che riportano a casa. E' un libro particolare di cui sicuramente parleremo ancora, perché tratta della decisione di restare come quella di partire dai luoghi dove siamo nati. E in questa disamina, più per giustificare la restanza, tira fuori quali sono i motivi che ci spingono a rimanere o a partire. Ma in questo video voglio parlarvi appunto del capitolo riguardante il pane. E' veramente confortante leggere di come certe tradizioni uniscano regioni diverse. Ad esempio, quando parla del pane della rispenza, della restanza, come il titolo del libro, era il pane che restava, quello che durava anche una settimana, che i nostri marinai, che rimanevano diversi giorni in mare, conoscevano molto bene. Un pane che conoscono ancora. Un pane che non si buttava mai. E che si utilizzava in tutti i modi. Nel latte, nelle minestre, arrosto, bagnato, con oli e pomodori. Insomma, consumato. Oggi invece ci ritroviamo a volte a quei figli fighettini che non mangiano il pane del giorno prima. Ma qui il problema sono soprattutto, e siamo soprattutto, quei genitori che glielo permettono e magari lo buttano per farli contenti. Non ho mai buttato il pane in vita mia. Anche quando mi cadeva a terra il pane lo baciavo. Tutto al più, quando era veramente tanto, ormai duro, l'ho dato a chi lo usa per le galline, in una sorta di economia sostenibile e circolare che poi mi ricompensa con le uova appena deposte. Oppure le molliche. Era un sacrilegio farle cadere a terra. E quanti di voi hanno mai messo il pane al contrario sulla tavola? In Calabria il sotto del pane rappresenta il volto del Signore, per cui questo non si faceva mai. Vogliamo parlare del profumo del pane appena sfornato? Noi tutti ci ricordiamo questo profumo. E stranamente, da piccolo riuscivo a capire dove era stato comprato il pane prima ancora di tirarlo fuori dalla busta. Ma io ho un altro ricordo a proposito degli odori. A Mazzara abitavo in una casa che confinava con il muro del forno di due miei amici, i fratelli Barbera. Questo permetteva alla mia famiglia di non spendere soldi per il riscaldamento durante l'inverno. Il muro era proprio attaccato al forno. D'estate però era una vera sauna. Ma verso le tre del mattino scendevo giù al forno per vedere la preparazione del pane, cioè l'impasto. E ricordo perfettamente anche l'odore della farina impastata, che poi sarebbe diventata pane caldo e profumato. Nel 2001, eravamo appena entrati nell'Euro, andammo a cena con un mio carissimo amico in un ristorante in Umbria di un famoso chef. E la nostra sorpresa fu che ci portarono a tavola dei piccoli pani di ogni regione d'Italia, belli, profumati, morbido, fragranti, comunque caldi da mangiare con l'olio. Solo per quel colpo di genio si meritò il conto veramente salato che pagammo. Tante storie ancora ci saranno sul pane, tante ne avrete, ognuno di voi ne avrà una da raccontare. Il mio suggerimento è quello di scriverle o non ne rimarrà a memoria. Grazie a tutti. Grazie a tutti.